ciao a tutti benvenuti nel primo video del mio canale oggi voglio parlare della yashica elettro 35 che è stata la mia prima macchina fotografica analogica con questa macchina infatti ho avuto la possibilità di sperimentare per le prime volte l'utilizzo dei rullini questa è una macchina molto particolare infatti è una macchina con telemetro a ottica non intercambiabile infatti monta un 45 mm 1.7 questa macchina è stata introdotta da yashica nel 1966 nella prima versione poi ci sono state altre versioni che hanno principalmente cambiato la sensibilità asa qui può arrivare infatti questa arriva a mille asa invece le altre avevano sensibilità arrivano sensibilità minori questo modello infatti è del 1973 la particolarità di questa macchina è anche nell'otturatore infatti non è un otturatore a scorrimento orizzontale o verticale ma è un atturatore centrale ciò permette di sincronizzare il flash su ogni tempo di scatto è molto semplice da usare infatti lavora in priorità di diaframmi da qua si può selezionare il diaframma agendo su questa ghiera e la macchina in automatico sceglierà il tempo di scatto da utilizzare qua ovviamente va impostata la sensibilità la ghiera è molto dura infatti evita che si possa cambiare involontariamente funziona con una pila purtroppo sono quella al mercurio infatti è necessario utilizzare un adattatore e qui troviamo il tasto per verificare la carica della batteria se la batteria carica si illumina questa finestrella dove c'è il contapose il funzionamento della macchina è estremamente semplice infatti l'esposimetro ci indica soltanto se è sovraesposta o sottoesposta alla foto infatti se è sottoesposta si accenderà la luce arancione sia qua che all'interno del mirino se riesco a farvi vedere la luce indica anche da che lato bisogna girare la ghiera del diaframma per far sì che la foto esca esposta correttamente invece se si accenderà la luce rossa vorrà dire che la foto è sovraesposta se riusciamo ecco in questo caso non riusciamo e l'esposizione sarà corretta quando nessuna delle due luci si accenderà è presente anche un blocco per evitare di scattare involontariamente una foto basta portare questa ghiera verso sinistra il tasto di scatto risulterà bloccato inoltre il tasto di scatto presenta la classica filettatura che hanno tutte le macchine analogico comunque la maggior parte permette di inserire uno scatto filo flessibile l'apertura del dorso è come la maggior parte per le macchine basta sollevare il nottolino e qua si apre per caricare il lino basta inserirlo qua e trascinare la pellicola fino a questa nottolino che vedete ruota quando si carica infine è possibile selezionare la modalità di scatto che può essere automatica bulb o flash in base appunto come si vuole scattare bulb permette di tenere aperto l'esposimetro per il tempo in cui viene premuto il tasto di scatto in questo caso rimane bloccato e per far rialzare bisogna muovere leggermente la leva di carica questa è una macchina telemetro e quindi per mettere a fuoco si può utilizzare il telemetro all'interno del mirino vedete c'è un riquadro giallo che si vede poco e all'interno di questo riquadro verrà visualizzata se la foto è a fuoco bisogna allineare il resto del mirino con il riquadro per essere sicuri che essa sia a fuoco è un sistema un pochino complicato all'inizio ma quando ci si prende la mano risulta molto comodo questa è una macchina comunque molto resistente e molto affidabile infatti la mia funziona perfettamente nonostante sia rimasta inutilizzata per svariate decine di anni inoltre è adatta a chi vuole iniziare a approcciare la fotografia analogica anche perché permette di non interessarsi di aspetti come l'esposizione ma fa tutto in automatico inoltre se si volesse utilizzare una sensibilità che non è quella nominale della pellicola basta modificarla qua inserire il valore maggiore o minore ma si vuole sovraesporre o sottesporre la pellicola infatti non è presente la lettura del codice DX per questa macchina è tutto vi lascio alcune fotografie che ho scattato con questa macchina e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao